Strumenti creati appositamente per aiutarti a far crescere il tuo canale YouTube in modo costante e crescente. Ciao da Marco! Su YouTube si parla spesso di intelligenza artificiale e di strumenti basati su questa tecnologia. Ci sono quelli che ti permettono di trovare idee, di creare testi, musiche e addirittura video. Ma oggi siamo qui per parlare di qualcosa di molto più particolare, ovvero due strumenti creati appositamente per aiutarti a far crescere il tuo canale YouTube. Vediamo insieme quali sono. iCoach è un potente strumento progettato appositamente per i creator di YouTube come te. Fornendo consigli personalizzati, verifiche del canale e supporto alla creazione di contenuti, iCoach si collega direttamente alle Analytics per offrire approfondimenti e analisi che ti aiutano ad accelerare la crescita del tuo canale YouTube. Tuttavia, iCoach può vedere i dati solo fino a tre giorni prima, quindi potrebbe volerci del tempo prima che riesca ad analizzare i video più recenti. Per ottenere risultati ottimali, VidaIQ consiglia di avere almeno due video caricati sul proprio canale. iCoach è molto semplice da usare. Clicca su uno dei prompt suggeriti per avviare la conversazione e in pochi secondi riceverai consigli personalizzati adattati specificatamente ai dati del tuo canale. In più, se hai l'abbonamento al piano Boost di VidaIQ, puoi beneficiare della potenza aggiuntiva di GPT-4, per un'assistenza ancora più avanzata nella creazione di contenuti. Questo è un esempio di conversazione fatta con iCoach. Nel mio caso, gli ho chiesto di fare un'analisi del mio canale e lui mi ha mostrato qual è la mia audience, quindi qual è il mio pubblico, quali sono stati i miei video più popolari negli ultimi 30 giorni, mi ha dato alcune idee per i prossimi video, come ottimizzare il titolo di un video in particolare per migliorarne le prestazioni e altri suggerimenti legati alla frequenza di caricamento. Prevedere, ottimizzare e portare alle stelle le prestazioni del tuo canale YouTube. Nasce con questo obiettivo, creatorml.com. La sua tecnologia di apprendimento automatico prevede le visualizzazioni potenziali dei tuoi video prima ancora di caricarli. Puoi ottenere suggerimenti per un argomento da trattare, titoli e spunti per le miniature dei tuoi video per ottenere le migliori performance possibili. Addirittura puoi analizzare e imparare dai video più performanti delle più svariate nicchie e tematiche. Il suo funzionamento è molto semplice. Inserisci le tue miniature e titoli per vedere come eventuali modifiche possono influire sul tasso di click e le visualizzazioni. Dopodiché applica le modifiche ai video presenti sul tuo canale per iniziare a vedere i numeri, crescere in modo costante e crescente. Bene, questi erano due strumenti che volevo mostrarti utili per aiutarti a crescere su YouTube basati sull'intelligenza artificiale. Li conoscevi? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Inoltre, non dimenticare di lasciarmi un bel like ed iscriverti al canale attivando la campanella su tutte le notifiche per non perdere i miei prossimi video. E detto ciò, ci vediamo alla prossima. Ciao da Marco! Ciao!